Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, cantate al Signore un cantico nuovo, proclamate la sua salvezza ogni giorno, dichiarate la sua gloria a tutti, egli è grande e degno di lode. Amen. Leggiamo dal Salmo 34 i primi otto versetti. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca, io mi glorierò nel Signore, gli umili ludranno e si rallegreranno, celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto, ma liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione, quest'afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Signore e Dio, noi siamo qui per adorarti. Lascia che il tuo amore ci guidi e la tua fedeltà ci conduca. Veniamo a chiedere il tuo perdono, a riunirci intorno al tuo tavolo, a portarti il nostro ringraziamento e a proclamare la tua redenzione. Ricevi la lode del tuo popolo. Amen. Ascoltiamo ora l'inno venticinque. Amore eterno, mia sovranità, perché mi ha udito dal mio lamento, per il mio sospito e il mio bosamento, tutti i miei giorni, gloria al Signore. Amore eterno, mia sovranità, perché mi ha udito dal mio amare, amore. Amore eterno, mia sovranità, perché mi ha udito dal mio amare, amore. Amore eterno, mia sovranità, perché mi ha udito dal mio amare, amore. Amore eterno, mia sovranità, perché mi ha udito dal mio amare, amore eterno, mia sovranità, perché mi ha udito dal mio amare. Il testo della predicazione di oggi è tratto dal Libro del Levitico, al capitolo 19, i versetti da 1 a 3, da 13 a 18, 33 e 34. Il Signore disse ancora a Mosè, parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro, siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Rispetti ciascuno sua madre e suo padre e osservate i miei sabati, io sono il Signore vostro Dio. Non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino. Non maledirai il sordo e non metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio, io sono il Signore. Non commetterete iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo, io sono il Signore. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non sarberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore. Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto, tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Amen. Il Signore benedica la lettura della Sua parola. È un libro strano e affascinante quello del Levitico, cari ascoltatori. Un libro pieno di ripetizioni, di prescrizioni pignole, di divieti. È un libro che dedica spazio a temi e problemi lontani dalla nostra sensibilità e questo ci infastidisce. Eppure, proprio l'ennesima ripetizione costituisce una delle dichiarazioni più importanti di tutta la Bibbia. Dio è santo e dunque anche il suo popolo deve essere santo. Il che però rappresenta un bel rompicapo. Proviamo a considerare il nostro testo un semplice fatto di cronaca e a metterci nei panni di un articolista che cerca di spiegare l'accaduto cercando di rispondere alle classiche domande del giornalismo. Che cosa è successo? Chi è stato? Come è accaduto? Dove e perché? Il chi, ossia il soggetto, è duplice. L'Eterno da un lato e i credenti dall'altro. Dove i credenti sono sia gli antichi ebrei di allora sia gli israeliti e i cristiani di oggi. Nessuno offre più nei mali in sacrificio nei rispettivi locali di culto. Ma il Signore rimane lo stesso Dio Santo e dunque rimane invariata anche la chiamata alla santità rivolta a tutti noi. Il che cosa è qui il modo in cui vivere. In cui vivere nella quotidianità questo appello alla santità che pone al centro l'Altissimo e la sua volontà. Le tante prescrizioni culturali contenute nel Levitico potrebbero portarci a ritenere fondamentale la minuziosa osservazione di ogni singola regola. Questo al fine di instaurare un corretto rapporto con l'Altissimo. Di per sé non sarebbe certamente un errore ma al centro di questo capitolo sta un comandamento di tutt'altro genere. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Il Dio Santo è il Dio che ama. Perciò la chiamata a essere santi rappresenta l'invito ad amare. Questo capitolo da un certo punto di vista potrebbe essere visto come una parafrasi del decalogo. Una parafrasi libera e creativa perché il primo comandamento menzionato per esempio è quello relativo ai genitori. Ma non si tratta soltanto di una parafrasi creativa ma di una parafrasi geniale. A coloro che come i tempi di Gesù domandavano chi è il mio prossimo. Il testo risponde indicando prima di tutto i genitori ossia la famiglia ma non si ferma ai genitori e alla famiglia. Quel rapporto di affetto e di comunione di premura e solicitudine che caratterizza una famiglia serena rappresenta l'esempio da seguire e da applicare nei rapporti con tutte le altre persone. Il credente non deve concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia dunque ma è invitato a estendere a tutti questo rapporto speciale che lo lega ai propri cari. Non soltanto dunque premura verso i propri simili ma anche nei confronti dell'altro, del diverso, dello straniero. Dall'amore per i genitori quindi, dall'amore per la nostra carne, si giunge all'amore per l'altro, attraverso un allargamento progressivo del raggio d'azione all'interno del quale il credente deve operare. E questo, tornando alle domande del giornalista, rappresenta il nostro come. L'uomo e la donna che conoscono il timor del Signore sono via via chiamati a rispettare la proprietà altrui, a instaurare rapporti di lavoro equi, a giudicare rettamente e senza favoritismi, alla correttezza anche quando è evidente che questa passerebbe inosservata, alla riprensione fraterna. A tutti questi esempi se ne potrebbero aggiungere altri, ma il principio è chiaro ed è stato espresso in modo insuperabile dal presbitero Giovanni. Chi non ama suo fratello, chi ha visto, non può amare Dio che non ha visto. I credenti possono osservare il comandamento della santità soltanto nel più profano dei modi, ossia vivendo un'esistenza orientata dall'amore per il prossimo. Veniamo ora al perché, un'altra domanda molto importante. Potremmo cavarcela rispondendo perché Dio lo vuole. Sarebbe legittimo, giacché quando il Signore parla il credente ubbidisce. Eppure vengono i brividi nel pensare a tutte le nefandezze compiute seguendo appunto questo grido, Dio lo vuole. A mio modesto parere, non credo che l'Eterno desideri dei soldatini pronti a battere i tacchi. E questo lo comprendiamo chiaramente quando consideriamo come amare per un cristiano non significhi semplicemente una lista di cose da fare o da non fare, ma sia un atteggiamento che orienti la vita, già che per noi l'amore con la A maiuscola è una persona e ha un nome, Gesù Cristo. Infine, la risposta al dove è la nostra vita e la risposta al quando è ogni momento della nostra esistenza. Come ci ha mostrato Cristo, si ama sempre, si ama sino alla fine, perché Dio non desidera un'obbedienza fine a se stessa, né ci chiede di obbedire per il gusto di comandare. La richiesta di santità rappresenta da parte sua l'offerta di condividere la sua realtà. È un'offerta sempre valida, ma che ha una clausola ben precisa, l'amore reciproco. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Essere santi dunque significa amare, amare il Signore e amare il prossimo. Questo crea uno spazio di libertà responsabile nel quale ognuno può essere autenticamente se stesso, proprio vivendo per l'altro come sanno i coniugi, i figli e i fratelli. Sì, il Levitico è davvero insolito e meraviglioso, pieno di ripetizioni, di prescrizioni e di proibizioni lontane dalla nostra sensibilità. Ma forse, quello che sgomenta veramente, è che si tratta di un testo pieno di amore. Amerai il prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore. Ammettiamolo, non è quello che ci aspetteremmo da questo libro, Ma pensateci bene, cos'altro davvero abbiamo bisogno di dire, se non che saremo amati dal prossimo come lui stesso perché Dio è il Signore. Noi singoli individui amiamo il prossimo e tutti i prossimi della nostra vita amano noi, è Dio con noi, è Dio con loro. Ora, che cosa significa essere santi se non, appunto, vivere e testimoniare questo legame che tu ti unisce e tu ti accomuna. Amen. Ascoltiamo ora l'Inno 194. Celebriamo il Signore Il Signore è il Signore, il Signore è la mia salvezza, e la sua beniglia è la sua beniglia, pura e l'interno. Ho cercato il Signore, e gli va risposto. Il Signore è la mia salvezza, alleluia, alleluia, tutta Lui in ogni età. Ci raccogliamo in preghiera. Accostiamoci al trono di Dio con fiducia. Noi riceveremo misericordia, e troveremo grazia per essere soccorsi al momento del bisogno. Di coloro che sono oppressi, sfruttati e mercificati, da fratelli e sorelle della famiglia umana, abbi misericordia, Signore. Noi li affidiamo alle Tue cure. In luoghi di conflitto, dove la sfiducia, il risentimento e l'odio avvelenano gli animi di singoli, di borgate e di nazioni intere, Signore, possano la pace e la giustizia governare. Lascia che il Tuo amore prevalga. A Te sia gloria nella Chiesa, e in Cristo Gesù, ora e sempre. Amen. Resumiamo ogni nostra preghiera con le parole che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, poiché a Te appartengono il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore della pace vi dia pace in tutti i tempi e in ogni modo, e la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sia sempre con voi. Amen. in Gesù. Per mani. Io bene. Grazie a tutti